Ebbene ritornati in questo nuovo video sono quello che ha cambiato il nome per l'ennesima volta Vorrei iniziare questi episodi giocando proprio a Minecraft Perché così a caso Non fate caso ai Chunk perché c'ho un computer che fa schifo quindi non me ne frega niente Dovrei prendere legno Allora non ho fatto video per 2-3 mesi perché ci avevo da fa' Con la scuola fare i compiti e il tempo libero perché se ne è andato a quel paese Vabbè e niente Oggi mi è apparso proprio in mente di fare una serie su Minecraft Così quanto è grande questo albero Allora Niente ho deciso di cambiare nome perché così di TheFoxyGamer ce ne stavano tanti Cambierò anche l'immagine perché tenere Foxy proprio di Five Nights at Freddy's non è che sia così molto carino Facciamo le solite cose che si fanno su Minecraft Ho messo anche l'Optifine così Beh Tirare delle laggate Ok Ma vuoi morire? Ok Ma io non sto giocando online perché mi tira delle laggate Dammi la tua carne Comunque voglio farmi una casa sull'albero tipo Tipo là Da quelle parti Non lo so Andrei pure In caverna Intanto prendo la pietra Raga ho deciso Per questo periodo porterò solo Minecraft Ok credo che può bastare Allora Piccone E pietra Ecco qua Questa via Poi mi faccio anche una spada di pietra E ora si va Esplorare Eh ma qua si non si vede niente Cacchio stai Bastardo infatti Non è qua Ma vabbè Carbone Subito Tattizi E' là da quello parco Dov'è? E' qua Aspetta che mi faccio delle torce Sì 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 C'è pure il ferro Ma dove stai? Allora adesso voglio uccidere sto zombie Prendi sto pezzo di carbone Dove stai? Ah ma c'è C'è un creeper Io non ci vado Io non ci vado Prendo il ferro E me ne vado Ma quanto ferro c'è? Addio Non ho mai visitato Questa caverna Ok Allora Dovrei farmi anche la fornace Intanto Facciamo il cibo Ok E' No Che scemo Avevo messo il legno Ok Prenderei Allora Tanto butterei Queste cose Che non mi servono Ok Via questo Questo E questi Ok Adesso come chiudo Ma vabbè C'è la pietra Non era pietra Cavolo Vabbè Comunque la casa La vorrei fare No aspetta Dovrei fare Dovrei fare Ammo dove Dico La Ora devo prendere Altro legno Dovrei farmi anche il letto Allora Facciamo questo letto Ecco qua Letto Fatto Allora Altro legno No No non tirare Laggate Ok Abbiamo uno stack Quindi Aspetta Aspetta Facciamo subito Cavolo 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 Salgo qua Poi E niente Ok Va bene Va bene qua Si Allora Dovrei subito Iniziare Non va bene Per niente Allora C'è questo Però Questo andrebbe Bene Posso Dormire qua Non cascare Allora Perché è saltato Da solo Vabbè Vorrei vedere Quest'albero Guarda Questo può andare bene A voglia La spada Allora Cambio di programma Non faccio più La casa Sull'albero Faccio una casa Classica Di quelle che si fanno Su minecraft Te la farei Proprio Tipo qua Ci mi mancavano Tre blocchi Avevo finito Subito Finito Ora Mettiamo le torce Poi la cassa No Aspetta Ma che cacchio Stava a fa Anzi La doppia Cassa Ecco Doppia Cassa Vai Intanto metto qua Il letto C'è uno scheletro Bene E che dire ragazzi Ci vediamo nel prossimo video Non so che cavolo Farei Alla prossima Alla prossima Alla prossima